Ciao a tutti, ciao sono Bruno, ho 46 anni, vengo da Torino e vivo ormai da 14 anni in Inghilterra. Tutto è partito nel 2006 quando dopo aver partecipato alle Olimpiadi Invernali sentì il bisogno di migliorare le mie imprese per aprirmi nuove possibilità lavorative. Quindi decisi di applicare, partecipare al progetto Leonardo che dava la possibilità di passare quattro mesi in un paese dell'Unione Europea per riprendere la lingua e per fare un'esperienza lavorativa sul campo. Decisi quindi l'Inghilterra e niente, riuscivo quindi ad andare a realizzare quello che è stato un sogno nel cassetto, quello di fare un'esperienza all'estero. Passati i quattro mesi sentivo il bisogno di prolungare la cosa, nel senso che avevo sicuramente rispolverato le mie conoscenze scolastiche, però sentivo il bisogno di migliorarmi. Quindi decisi di investire altri due anni perché avevo la possibilità, nel frattempo avevo creato dei contatti, quindi potevo lavorare full time nell'hotel in cui avevo fatto la mia esperienza lavorativa. In più potevo iniziare un corso nell'ambito del melangement hospitality, che mi dava la possibilità quindi di imparare nuove cose e in più rafforzare il mio inglese. Non avevo finito un tempo addietro i miei studi universitari, quindi cercavo una mia strada e mi dimevamo tra un lavoro e un altro, pressoché nell'ambito della ristorazione, dell'alberghiera. E quindi sentivo questa come una grande opportunità, cioè quella di migliorarmi comunque, quella che era diventata un po' la direzione che nel tempo stavo seguendo, diciamo. Quindi decisi di approfittarne perché appunto in quegli anni mi sentivo un po' bloccato, come se non riuscissi a migliorarmi o a crescere. Quindi lasciavo Torino, che è stata la città in cui sono nato, cresciuto, dove però non riuscivo tanto ad evolvere, per le Midlands inglesi. Arrivavo quindi all'Appora e niente, stavo all'Appora per ripartire, per iniziare una nuova avventura. Tutto naturalmente è molto nuovo e anche difficile se vogliamo, però trovavo nello spirito inglese, nel loro atteggiamento semplice e diretto, una, come dire, ciò di cui avevo bisogno e quindi mi davo da fare e mi reinventavo. Quindi questi due anni sono passati, nel frattempo ho appunto creato amicizie, contatti, ero in relazione, quindi non sentivo il bisogno di ritornare in Italia, volevo prolungare la mia esperienza all'estero, consideravo comunque sempre questa come un'esperienza interessante, non come una vera e propria emigrazione. Finiti questi due anni, deciso quindi appunto di rimanere e quel corso, poi si trasformò e diventò una laurea, una laurea in management hospitality, anche nelle mie mansioni nell'hotel in cui comunque ho continuato a lavorare, cambiarono, diventai sempre più, come dire, assumendo sempre più ruoli manageriali. Sentivo, avevo la possibilità, ho avuto la possibilità di continuare e sviluppare altri interessi, infatti ho studiato come cuoco, seguendo quella che è un po' la mia passione per la cucina e da lì, insomma, da mano sono diventato cuoco, ho lavorato per due anni, finché poi un giorno delle amici mi hanno offerto la possibilità di gestire un locale che stava aprendo, una pizzeria, e niente, da lì in poi ho iniziato a lavorare per loro, questa che è diventata poi una piccola, c'è una piccola catena di pizzerie e io gestisco, mi muovo, insomma, gestendone. Fino adesso, nel frattempo, ho avuto la possibilità di distribuire altri interessi, quindi di coltivare altri interessi che mi daranno la possibilità, eventualmente, nel futuro di aprirmi nuove porte. Adesso sono passati 14 anni, quindi sento il bisogno di, sento la necessità di ritornare, come se la parabola, in qualche modo, fosse nella fase ascendente, sentissi il bisogno di ritornare a casa, stare vicino alla famiglia e di avere una nuova partenza. Sento il bisogno di farlo, naturalmente sarà molto difficile, molto complicato e anche molto triste lasciare l'Inghilterra, che mi ha dato parecchio, ha dato molto. Non è sempre stato facile, avendo vissuto 14 anni, devo dire, non è sempre stato facile vivere lì, specialmente all'inizio, perché c'è stata una grande frustrazione nel fatto di non essere capiti, di non voler essere capiti. di sentirsi un po' alle volte come cittadini in serie B, come un immigrato, perché, appunto, dovevo completamente reinventarmi. Dovevo, come, ho avuto proprio la sensazione di dover riaprire un nuovo libro, una nuova pagina della mia vita, e rimparare nuovi codici, nuovi modi di comportarsi. E quindi è stato, è stato duro. C'è avuto del tempo prima che io potessi prendere, entrare, diciamo, nel sistema, nel sistema di vita inglese. C'è anche da dire, appunto, che questa sensazione di venire da un altro paese l'ho sentita forte. Poi, nell'inglese c'è, si può sentire alle volte ancora quella, quel retrogusto di, non retrogusto non è la parola giusta, ma come la sensazione che si sentano un po' superiori, perché questo viene un po' da quello che è stato il loro grande impero, che ha dominato, conquistato per parecchi anni. Quindi si sentono un po' superiori. E quindi questo l'ho sentito un po', non è stato facile quindi entrare nel loro sistema. Speramente poi, adesso, ultimamente con la Brexit, si è appunto fuori un po' quello che era il loro reale sentimento. E quindi chi viene da altri paesi si è sentito un po' non voluto. Devo dire che però questa esperienza all'estero è stata, a parte queste note, alcune note amare, una esperienza molto formativa, ho potuto conoscere gente probabilmente da tutta l'Europa, da tutto il mondo, e quindi è stato sicuramente molto arricchente. L'idea di poter utilizzare una lingua, la lingua inglese, per poter comunicare con altre persone è stato molto bello. Quindi la mia percezione, la mia immagine di me, la mia identità, se vogliamo, è cambiata da sentirmi unicamente italiano, sentiremi un po' come dire parte di qualcosa di più grande. Quindi devo dire che questa esperienza, che non è una migrazione, ma è un'esperienza all'estero, è stata molto forte, ed è la consiglio. Credo che faccia parte di noi, come esseri umani, quello di migrare, di spostarsi, di cambiarsi, e di trasformarsi, e quindi vedo la mia esperienza come un'esperienza che fa parte di cambiare, di andare via, come fa parte della crescita di una persona. e quindi André. e quindi andrò